Il Comune di Salerno non intende rinunciare all'evento delle luci d'artista dopo la gara dell'evento che quest'anno porterebbe la città di Salerno a celebrare la 17esima edizione andata deserta, considerando che non ci sarebbero i tempi per bandirne un'altra, ricorrerà all'affidamento diretto. E quanto è stato chiarito nel corso di una riunione della Commissione Trasparenza Palazzo di Città e spiegato dal Presidente Antonio Camarota, le luci d'artista, sebbene sia un evento quasi maggiorenne, ha rappresentato e rappresenta un momento di slancio per l'economia e il turismo della città. Al momento il Comune di Salerno ancora non è riuscita ad affidare l'installazione delle luci d'artista. Secondo lei sarebbe un danno per la città di Salerno non avere anche quest'anno questo evento? Un danno senz'altro qualcosa in meno, però diciamo che io sono molto fiduciosa che riusciranno ad affidare. Sono un po' quelle schermaglie che avvengono ad uso e consumo dei cittadini per far capire quanta onestà c'è nello sceglierlo, ma hanno già scelto signora, non ci prendiamo in giro. Lei come lo giudica l'evento? Un evento importante per la città di Salerno che dà un valore aggregato? È appunto un valore almeno materiale, almeno economico, perché io vedo tanta affluenza, quindi male non fa. A me personalmente non dà né piacere né fastidio che io abito qui a cento passi, quindi vedo giusto la gente che passa. Quindi a me personalmente non porta niente alla mia età. A loro porterà certamente della distrazione, probabilmente un po' di movimento in una città abbastanza addormentata. Penso che sia un evento positivo da ripristinare, sicuramente. Un evento che apporta sicuramente un valore sotto il profilo turistico per la città importante, sebbene siano passati 17 anni. Sì, sì, ancora. Io conosco molta gente del nord che viene a Salerno e la conosce proprio perché è venuta alle luci d'artista. Beh, è una bella manifestazione, anche se io abito ai miei mercanti, quindi mi trovo nel clou delle luci e quindi un po' ho dei problemi, però è una bella manifestazione. Una manifestazione che rappresenta sicuramente una cartolina turistica per la città di Salerno. Credo che negli ultimi anni sia, diciamo che negli anni sia andato un po' a calare come qualità, però diciamo che è un evento che effettivamente attrae un sacco di persone. Credo che sia un bene per la città alla fine. Questi giorni la gara bandita dal comune è andata deserta, al momento ancora non è stato affidato l'incarico. Secondo lei sarebbe un peccato non ripristinare l'iniziativa, la manifestazione? Sì, sì, sì. Immagino che anche i commercianti siano molto favorevoli a questo tipo di manifestazione. Cioè, sia un bene per tutta la città. Dovrebbero un attimino migliorare la qualità delle luci, perché all'inizio credo che i primi anni erano molto più belle delle ultime stagioni, però è andata così.